Noi chiamiamo tavola rotonda dove discutiamo un poco, sempre sull'argomento della cristioterapia, puntando l'attenzione su due punti, sull'efficacia della preghiera e sull'efficacia del perdono per la nostra guarigione. Sappiamo dalla letteratura anche profana, dalla lettura medica, sia anche di quella ufficiale e di quella così omeopatica e di quella oristica che la preghiera è molto efficace per la guarigione. Bisogna però stare molto attenti nell'inquadrare il valore della preghiera per la guarigione in modo che la preghiera non sia come un'attività dell'uomo per cui l'uomo attraverso la preghiera conquista la guarigione. Questo potrebbe essere il pensiero dei non credenti. in realtà la preghiera è una conquista dell'uomo. La preghiera anche in chi esplicitamente non crede, ma è in buona fede ed ha una fede in Dio. La preghiera è un mezzo di guarigione perché è pacificante. Ossia l'uomo attraverso la preghiera raggiunge uno stato di armonia perché si mettono in movimento tutti quei fattori di benessere, cioè i fattori immunitario, ormonale e tutti gli altri elementi che presiedono il benessere dell'uomo. Per cui in verità si ottengono dei risultati anche in campo medico, dei buoni risultati attraverso la preghiera perché la preghiera induce in uno stato di armonia, in uno stato di pace, di serenità e aiuta al benessere. Non è una guarigione completa, però è sempre un benessere che si acquista attraverso la preghiera. Per noi invece la preghiera, sì, è un elemento pacificante ed è una conquista, una via di conquista umana per la propria guarigione, ma la preghiera noi non la vediamo come una conquista dell'uomo, come un'attività dell'uomo per avere la propria guarigione. Cioè la guarigione non è il frutto di un'attività umana attraverso la preghiera. Sebbene la preghiera induce la guarigione, apre la via alla guarigione e nei casi lievi può anche determinare una guarigione. La preghiera come preghiera, come attività propria. Però qui noi intendiamo la preghiera come dono di Dio, come grazia di Dio. Cioè la preghiera ci ottiene il dono della guarigione. La preghiera è supplica a Dio che ascoltandoci ci dà la guarigione. È una via di guarigione per un dono di Dio che ascolta coloro che supplicano. E in tutto questo senso noi troviamo le scritture piene che ci esoltano la preghiera perché il Signore ascoltando la nostra preghiera ci guarisce. Guarisce Ezechia che prega, lacrime davanti a Dio. Mentre se noi non preghiamo non abbiamo già una via aperta, una via naturale aperta. Per cui la preghiera anche in via, in un campo naturale, diciamo, è una predisposizione ad ottenere la guarigione. però quando preghiamo, quando diciamo che noi preghiamo per ottenere la guarigione, non è che quella guarigione è conquista nostra, ma è grazia di Dio. Preghiamo perché Dio ci dia il dono della guarigione, perché Dio ci dia la grazia della guarigione, perché Dio attraverso la mediazione dello Spirito che prega in noi, mediante la Madonna che intercede per noi, i Santi che intercedono per noi, o mediante la semplice preghiera dei fratelli ci guarisce, perché Dio ascolta la preghiera fatta bene in Cristo Gesù, la preghiera dello Spirito. Per cui bisogna distinguere di preghiera che come via di guarigione naturale e via di guarigione soprannaturale. Non neghiamo che la preghiera è una via di guarigione naturale, nel senso che predispone alla guarigione, perché crea armonia dentro di noi, facilita la comunione, ma la semplice preghiera come via naturale di guarigione non sortisce effetti soprattutto nei casi gravi. Invece la preghiera che noi facciamo per ottenere la grazia per ottenere il dono di Dio, quella sì è una via eccellente di guarigione, perché Dio guarisce quando noi preghiamo, esodisce la nostra preghiera. E questo è il primo punto su cui discuteremo. Il secondo punto è il perdono. Anche nella medicina, medicina così tradizionale, e nella medicina omeopatica, nella medicina olistica, il perdono è una via di guarigione. Però non è di completa guarigione, è di predisposizione alla guarigione. Nei casi lievi si ha un miglioramento, ma nei casi gravi no. Quando noi parliamo di perdono chiediamo il perdono a Dio perché Lui ce l'ha comandato. E vedremo un poco la tridimensionalità del perdono. Un perdono verticale, un perdono orizzontale, un perdono basale. Sono vie di guarigione, perché il Signore attraverso il perdono ci guarisce. Tante volte non otteniamo la guarigione con la preghiera, anche ben fatta la preghiera, perché c'è un obbice, c'è un ostacolo. Ed è il non perdono. Il non perdono fa ammalare, l'uomo fa ammalare veramente, con diverse malattie. Perché il sistema immunitario, il sistema ormonale, tutti gli altri sistemi che influiscono sul benessere o malessere sono sconvolte dalla mancata pacificazione dello spirito. Perché siamo una composizione di spirito, anima e corpo. Però è attraverso il perdono vero che noi otteniamo la guarigione. Quando noi non perdoniamo, tante volte la guarigione non viene, più delle volte non viene. Molte volte preghiamo bene, facciamo tante pratiche e avvertiamo che non c'è la guarigione, perché c'è il non perdono, o non perdono di Dio, non perdoniamo a Dio, o non perdoniamo a noi stessi, o non perdoniamo agli altri. E allora c'è un ostacolo alla guarigione. E allora per liberarci da questo ostacolo dobbiamo pregare da una parte, cioè sottometterci a Dio e chiedere, umiliandoci davanti a Dio, per poter guarire dobbiamo perdonare il prossimo. In pratica c'è una via di amore, amore verso Dio e amore verso il prossimo. Sottomissione a Dio, sottomissione a prossimo, per cui sono via e regge per ottenere la guarigione. E' su questo argomento che noi indessiamo la tavola rotonda. Una domanda, mi hanno chiesto anche dal pubblico, che significa medicina olistica? Olos significa intera, no? Guarda... Questo te lo puoi spiegare, ma c'è... Olos sono olos... C'è un medico qua, c'è un altro medico... Olos significa intera, dove c'è spirito, anima e corpo che sono interessate. E mira questa all'armonia tra spirito, anima e corpo, all'armonia interiore e all'armonia esteriore. Però non è tutto, non è tutto perché si innesta in un processo di evoluzione dell'uomo. Non è proprio una via cristiana, non è una via non buona. Possiamo prenderla in considerazione, ma noi stiamo sempre alla medicina tradizionale, non andiamo alla medicina olistica, perché nella medicina olistica c'è sempre il presupposto dell'evoluzione dell'uomo. E non è chiara l'idea di Dio, sebbene quelli che gli autori che ho consultato nella medicina olistica, adesso mettono in grande risalto la presenza di Dio e la presenza di Cristo. La discussione verge sul perdono, però volevo chiarire due punti. Il primo è questo, che non tutte le malattie dipendono dal peccato, perché anche nel Vangelo abbiamo l'episodio del sciaconato, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, né lui né i suoi genitori, ma perché si manifesta la gloria di Dio. Nazaro è ammalato, non per il peccato, ma perché si manifesta la gloria di Dio. Tanti santi sono malati, appunto perché portano la croce di Cristo e patiscono per tanti peccati degli uomini, per cui non è il peccato personale che è connesso con la malattia. Tante malattie avvengono perché debbano avvenire, sono le prove della vita, sono connesse dalla misteriosa via che Dio è disposta per noi, per la nostra santificazione, ma tante volte non sono connesso col peccato. Per cui non è che ogni malattia c'è peccato di mezzo, no, uno. L'altra precisazione riguarda la comunione, la comunione di quelli che sono in peccato. Se tu hai fatto un peccato occasionale e non hai modo di confessarti, fai un atto di dolore perfetto, cioè signore io mi sono bendito di quello che ho fatto, propongo di confessarmi per presto, ora l'atto di dolore perfetto distrugge il peccato. Prima di confessarti, resta l'obbligo di confessarti, ma il peccato già è assolto, per cui puoi fare la comunione. Diverso invece è il caso del peccato abituale, per esempio uno che vive in adulterio, e allora lì non può fare la comunione perché si trova in uno stato abituale di peccato. Però ci sono dei casi particolari in cui il sacerdote può derimere un po' il dubbio quando si tratta di uno stato di necessità in cui la persona si trova. Però in questo caso si può fare la comunione evitando però lo scandalo della comunità se la persona è conosciuta. Per cui ci sono dei casi che vanno risolte in sede di confessione, per cui anche uno che è... ... ... ... ...